Kevin Giacon, questa gara ti vede sul terzo gradino del podio, è durata poco, ma se hai una presenza oramai costante, un po' di rammarico forse per non aver avuto continuità anche nella prima metà di stagione. Nella prima metà di stagione sappiamo già com'è andata, sono stato molto sfortunato, adesso è già il secondo round e riesco a riprendermi e a salire sul podio e diciamo che oggi non ho voluto mettermi in mezzo tra i due litiganti. E' stata comunque una gara incandescente, per quel poco che è durato, hai dovuto guardare anche un po' negli specchietti, c'erano anche minacce in colore blu. C'erano molte minacce, di cui Stefano Comini che siamo molto amici ha cominciato a spingere anche lui, però ci divertiamo.